Cosa sotto di te? Sì, quello con la bassa. Manca meno. Se è possibile, questa roba qua, la prima tromba, la prima e la seconda tromba, ma in particolare la prima, se riesci a fare tutto gonfiato, sarei più contento, questa cosa qua. Penso che si può fare, no? Sì. Prende un altro, come si fa, no? La tromba deve prendere la tromba, la seconda deve prendere la tromba. Tu... io... Tu devi prendere la tromba, non lo so. Tu, se riesci... Cioè, la bassa è più lunga che puoi, con un fiato solo. Quindi, forse, ti conviene prendere il fiato alla 1, 2, 3, alla prima e alla terza battuta. In modo che poi fai il segno. Così fai tutto fino alla fine. Ok, vado? Io posso fare tutto gonfiato? Allora... Se riesci a fare tutto gonfiato, è meglio. Ok. Ok. Ok, vado. 1, 2, Si, dentro la lente. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3,